La nostra informazione è scontata ovvia l'apertura ancora quest'oggi sulla vicenda sconcertante e raccapricciante di San Valentino Torio che è alla ribalta delle cronache nazionali, la violenza subita da una sedicenne da parte di un branco di cinque suoi coetanei. Erano sempre insieme, si ritrovavano spesso in varie zone della città i cinque minorenni autori dello stupro della ragazzina. Per loro, dopo l'accompagnamento in un centro di prima accoglienza, si prevede un lungo percorso di riabilitazione educativa e non solo. Sentiamo il primo servizio di oggi. Sono attesi da un lungo periodo di recupero educativo i cinque responsabili dello stupro di gruppo ai danni della ragazzina di 16 anni di Sarno. Hanno tutti dai 15 ai 17 anni. La ragazzina l'hanno adescata con la forza, l'hanno violentata a turno nel garage in piazza Giovanni Paolo II a San Valentino. Cinque ragazzi, tutti di San Valentino, che sono soliti stare sempre insieme, dicono in città, e che sono stati arrestati dai carabinieri del reparto territoriale di Noceano Inferiore con la pesantissima accusa di violenza sessuale di gruppo. Una storia bruttissima, una vicenda che nasce in pieno centro a San Valentino, quando la ragazzina è stata avvicinata l'altra sera dal branco, che l'ha poi costretta, prima ad andare nel garage di cui prima, e poi a subire le ripetute violenze e un rapporto completo. Fondamentale per le forze dell'ordine per intercettare e individuare subito i cinque responsabili la denuncia della stessa ragazza che, tornata a casa, si era confidata in lacrime con la mamma. Immediato il trasporto all'ospedale di Sarno, il martire di Villa Malta, dove sono stati effettuati gli esami dai medici e riscontrati i segni evidenti della violenza sessuale subita. Poi le indagini dei carabinieri che hanno portato all'arresto dei minorenni, trasferiti quindi in un centro di prima accoglienza. Siamo ritornati anche in piazza Giovanni Paolo II, nei pressi del garage, dove la ragazzina sedicenne è stata stuprata. Qui, nonostante un continuo via vai di persone, pochi hanno voluto parlare della vicenda. Quindi è un atteggiamento omertoso che ha lasciato di stucco anche la nostra truppa mamma. Vediamo. Il giorno dopo la notizia della violenza ai danni di una ragazzina di 16 anni qui a San Valentino Toro, in piazza Giovanni Paolo II, qui sotto nei garage dove è avvenuto il fatto, tutto sembra scorrere tranquillo. In realtà, ascoltando un po' di persone, molti non vogliono parlare di questi episodi. Molti fanno finta probabilmente di non sapere, molti non vogliono esporsi. Insomma, la vicenda ha toccato le corde dei valentinesi. C'è anche da dire un'altra cosa. Noi stamattina siamo stati qui a San Valentino e fa specie vedere il campetto di calcio, quello che solitamente è pieno zeppo di bambini giocare lì a pallone, col sole, col vento, con la pioggia e quant'altro, essere invece completamente vuoto. Andiamo a sentire le impressioni di qualcuno che invece ha risposto alle nostre domande sulla vicenda. Signora, che idee si è fatta di questa vicenda di San Valentino? Non ne so niente, no, non ne so niente. Signora, lei? Non siamo informati. Non vi siete informati di ciò che è successo qui vicino? Per momento no, non so ancora niente. Sì, mia mamma è stata... Ma con la mamma che cosa pensa? Eh, che siamo mal mondo. Mal mondo? Eh. Cosa si potrebbe fare per risolvere? Eh, niente. Prima cosa me ne dici. E poi non può con noi uomini di fare qualcosa. Che regola in più magari? Eh, ma noi ci mettiamo tutti. Tutte le regole del mondo, però non lo so com'è successo. Ha saputo che è fatto? No, non ne so appunto niente. Non mi riesco a dare una ragione, sinceramente, perché stiamo parlando di una generazione che non è più quella nostra probabilmente. e si deve capire dove bisogna lavorare. Sicuramente il sindaco, il parroco, tutti noi genitori, perché ho dei figli e quindi è una realtà che dobbiamo conoscerla meglio e capire dove abbiamo sbagliato. Perché se parliamo di pochi ragazzi, non si sa, qualche famiglia, magari la conosco pure, sono brave famiglie, quindi bisogna capire dove abbiamo sbagliato. Lei come mamma di ragazze di San Valentino, che cosa può dire alle mamme di chi ha subito e di chi ha fatto un atto del genere? Allora, io per la mamma che ha subito, dico, devi avere tanta forza di perdonare ai genitori dei ragazzi, dico, non li punite, cioè, devono essere puniti, però devono essere pure amati, perché sono convinta che... Forse capiti. Capiti, innanzitutto, e sono convinta che questi ragazzi che compiono qualche cosa che non va, sono molto fragili, molto delicati, che nascondono magari, sai, quando vogliono fare i bulli, quelle cose tutte, ma dentro è solo una corazza, dentro c'è tanta fragilità. È una brutalità che mi ferisce e mi fa stare male. Ha commentato in una nota il sindaco di Sarno, nonché presidente della provincia di Salerno, che condanna con forza l'episodio. Chiedo che sia fatta giustizia senza se e senza ma. Contatterò la famiglia non solo per farle sentire la vicinanza di tutta l'amministrazione, ma anche per darle tutto il sostegno umano. Intanto sull'episodio è intervenuto anche Matteo Salvini, segretario della Lega Nord, la violenza di gruppo ai danni di una ragazza minorenne. Si commenta da sola, Salvini ha avuto parole durissime nei confronti dei ragazzi e protagonisti della vicenda. Cinque minorenni hanno violentato una ragazza di 16 anni nel Salernetano. Ha scritto, a prescindere dalla nazionalità, ci vuole una pena esemplare. Per i pedofili e gli stupratori maggiorenni la castrazione chimica. Per i minorenni almeno dieci anni di galera. E una domanda, ma da che genitori sono nate bestie del genere? Queste le parole del leader leghista che già in passato ha chiesto la castrazione chimica per gli stupratori maggiorenni e pene molto più severe per i minorenni accusati dello stesso reato. Ed ora andiamo ancora a San Valentino Torio, la città che ha visto il teatro di questa violenza. San Valentino resta la città dell'amore e degli innamorati. Questo brutale episodio deve però farci riflettere. Sono le parole del sindaco del piccolo centro dell'agro, Michele Strianese, che stamane ha chiamato a raccolta i responsabili delle parrocchie e delle associazioni. Tanto stiamo facendo per i giovani. Evidentemente non basta, bisogna fare di più. Ha dichiarato ancora Strianese i nostri microfoni. Sulla vicenda prende una posizione netta. Anche il presidente della provincia, lo abbiamo sentito, Giuseppe Canfora. Ma vediamo il servizio. Da questa mattina San Valentino Torio forse si sente meno innamorata di se stessa. Lo stupro della ragazzina di Sarno di appena 16 anni ha sconvolto l'intera città. Cinque minorenni nel mirino delle forze dell'ordine. Cinque giovani che molti a San Valentino Torio conoscono, di cui si dice essere tutti di buona famiglia. Il sindaco Michele Strianese prende però posizione, difende la sua comunità e ha voluto farlo convocando tutti i rappresentanti delle associazioni del territorio per cercare di capire e di intervenire. Ma sottolineando l'impegno massimo che la sua amministrazione, le parrocchie e il mondo dell'associazionismo fanno per i cittadini di San Valentino, Strianese ha chiesto anche ai genitori dei ragazzi di non avere paura e continuare a vivere la città, come sempre è stato fatto fin qui. Oggi forse si sente il sindaco di una città un po' meno innamorata di se stessa, no? Ma è detto una bella cosa. Siamo tutti dispiaciuti oggi, io in particolare come sindaco, ma un po' tutta la comunità di questa incresciosa vicenda, che continua a dire che si tratta di una voce fuori da un coro, da un coro di onestà, di trasparenza, di comunità, di valori sani, che ci hanno sempre tramandato i nostri nonni, i nostri genitori. Noi come amministrazione lavoriamo tantissimo con le associazioni, con le parrocchie, con l'oratorio, con le scuole calcio. Ci sono realtà associative su San Valentino che coinvolgono soprattutto giovani delle varie fasce d'età, veramente diciamo di notevole qualità del servizio che offrono. Quindi veramente, come dicevo anche prima, siamo increduli perché come può accadere una cosa del genere? Eppure è accaduta. Quindi vuol dire che c'è un difetto di comunicazione, vorrà dire che ci sono i frangie sociali alle quali questi messaggi che vengono trasmessi dalla comunità istituzionale, religiosa, associativa e della cooperazione sociale anche non arrivano. E quindi ci dobbiamo interrogare sul perché. Nelle ultime ore circola, soprattutto sui social, la paura dei genitori di lasciare per strada in giro le proprie ragazze, i propri figli. Quindi questo insomma è un altro campanello dell'arme grosso. Come si può risolvere nell'immediato? Cioè come si può dare subito una risposta di sicurezza a queste famiglie? Ma guarda, per quanto riguarda San Valentino è stato sempre un paese tranquillo. Un paese dove è stato sempre possibile tutto, nella massima tranquillità possibile. Per cui io invito tutti a non aver paura più di tanto perché poi deve essere anche educazione dei ragazzi, sapere dove bisogna arrivare. Ma è chiaro che noi proprio in questi giorni abbiamo fatto una riunione con i carabinieri per maggiori controlli nei punti sensibili che sono la villa comunale, l'area delle cooperative edilizie, quindi le zone a verde dove in estate si riscono di più i ragazzi, i giovani e gli adolescenti. Quindi abbiamo coordinato questa cosa. Con la Polizia Municipale stiamo lavorando per migliorare anche la legalità della circolazione stradale. Io posto continuamente il lavoro che facciamo. In questi giorni abbiamo avuto dei atti vandalici nelle aree delle cooperative edilizie, dove c'è un'area verde molto vasta e dove la sera si riuniscono questi ragazzi. Per esempio scrivono con le bombolette spray sulle opere pubbliche, su proprietà comunali e questo è un altro segnale negativo.